Alcune polemiche sul centro per l'autismo, quali saranno i prossimi passaggi? I passaggi sono molto chiari, l'aste numero uno nella persona della dottoressa Storti sta già lavorando velocemente per cercare di risolvere questo piccolo impasse che si è creato, una polemica secondo me infondata che non ce n'è assolutamente bisogno perché questi sono temi dove non bisogna necessariamente dividersi, io capisco chiaramente le esigenze politiche di ognuno di noi, l'avvicinarsi delle campagne elettorali anche a livello amministrativo, quindi capisco benissimo il consigliere Biancani, però è necessario ripartire subito, siamo già ripartiti, troveremo una soluzione molto rapida, purtroppo questo è un progetto che parte da molto lontano, do merito assolutamente a chi 15 anni fa aveva pensato a questa esigenza sul mondo dell'autismo, un tema che sto seguendo particolarmente come Presidente della Commissione Sanità, stiamo cercando subito adesso di trovare una soluzione, la troveremo, anche perché con il blocco di questo progetto per un sacco di anni adesso siamo riusciti a farlo ripartire e adesso dobbiamo portarlo a termine, i progetti anche se presentati da altri, seppur buoni, devono essere portati a termine, quindi è sicuramente un elemento fondamentale che dobbiamo riuscire a portare a termine e sono certo che lo faremo.